Presentato dall'amministrazione comunale l'accordo che permetterà l'ampliamento del parco Milkovic, la superficie verde aumenterà di quasi 11.000 metri quadri. Nell'area contigua al parco era infatti prevista e già concessa della cubatura che grazie a quest'operazione urbanistica verrà spostata in un'area più idonea, uno spazio pensato anche per aumentare la biodiversità dei parchi cittadini. Il valore dell'ampliamento del verde per i cittadini è veramente altissimo. Abbiamo già un parco bellissimo, gestito molto bene, che è il parco Milkovic, che è di 37.000 metri quadrati. È anche molto frequentato, molto utilizzato anche per le sue attrezzature sportive. È molto conosciuto anche per Arcella Bella, che è un'iniziativa che si svolge durante il periodo estivo. Con questi 11.000 metri quadrati in più possiamo allargare questo parco e renderlo ancora più vivo e pieno di cittadini che qui trovano sicuramente uno spazio di benessere. L'idea è di realizzare una fascia boscata, quindi mettere a dimora molti alberi, anche a protezione dell'area residenziale e quindi aggiungere delle dotazioni che saranno concordate con tutte le persone che amano questo luogo, la consulta di quartiere e anche gli stessi organizzatori delle manifestazioni che si tengono qui. L'accordo ora dovrà essere esaminato dal Consiglio Comunale. Le tempistiche che porteranno alla nuova area verde sono di circa un anno. Ci sono dei tipi burocratici, quindi servirà almeno un anno per concludere l'iter amministrativo. Però abbiamo puntato molto, abbiamo creduto nell'estensione e nell'ampliamento di questo parco perché l'Arcella è l'area probabilmente più densamente abitata della città, ha pochi parchi e lo vediamo già oggi, il Milkovic è un parco molto vivo, molto utilizzato, però effettivamente è molto stretto perché è molto utilizzato. Quindi è una parte di città che ha sicuramente bisogno, come altre, ma forse anche più di altre, di ampliamenti e di nuovi parchi.